L'emergenza idrica che ormai da troppi anni colpisce l'area vestina e che continua a creare notevoli danni al settore agricolo è stato il tema centrale dell'incontro che si è svolto presso il comune di Pianella tra la CIA, agricoltori italiani Chieti Pescara e i sindaci dell'area. A causare questa problematica vi sono anche i cambiamenti climatici. Infatti sono sempre di più i periodi dove si riscontra maggiore siccità che si alternano a fenomeni atmosferici in cui le precipitazioni assumono forme di vere e proprie bombe d'acqua. Di queste precipitazioni così abbondanti si riesce però a contenere a livello nazionale solo l'11% senza riuscire a garantire l'approvvigionamento idrico come accaduto per il lago di Penne né per quanto riguarda l'uso potabile né per quello irriguo. A sollecitare la presa di coscienza della reale situazione è stato il padrone di casa Sandro Marinelli che ha individuato nella gestione commissariale in cui versa da quasi un decennio il consorzio di bonifica centro la problematica maggiore per questo verrà presentato alla regione Abruzzo un documento condiviso con gli amministratori presenti per chiedere anche una riduzione del canone consortile per gli agricoltori che hanno visto il raccolto compromesso. Per cui è necessario che con urgenza si ritorni alla fisiologia della gestione dei consorsi portando avanti quella riforma che il consiglio regionale ha votato ad ampia maggioranza ma adesso è il momento di agire non si può più aspettare non si può chiedere ai coltivatori di queste aree che sono state pesantemente colpite che subiranno danni economici pesantissimi di continuare a pagare per un servizio che non hanno ricevuto nel momento in cui ne avevano più bisogno. Dunque con l'imminente ritorno alle elezioni nei consorzi di bonifica si prospetta una opportunità unica di confronto per condividere strategie di ampio respiro da cui possano emergere le prospettive con particolare riferimento alle opere in atto e a quelle in corso di progettazione comprese quelle che auspicabilmente potranno trovare spazio nel PNRR. Individuare linee che portino l'acqua dalle zone dove ce n'è maggiore disponibilità a quelle come per esempio dell'area vestina dove notoriamente non si riesce ad andare troppo in là nel tempo con la disponibilità e soprattutto vogliamo anche sottoporre l'opportunità di ridurre i canoni per chi come in questo periodo è stato costretto ad abbandonare da un momento all'altro la possibilità di irrigare con tutto quello che ne consegue.